Uno spinello, papà? Uno spinello di droga? Troga. Dove sta la droga? Che, questo? Ma no, ma questa è la terapia, Gianluca. Che terapia? Si chiama Fiodena. Fiodena? Quello che chi non so fuma è Fiodena Mignotta, Gianluca. A me sembra droga. E basta con sta parola, Gianluca! Ma che sei, dell'ABI, di NAS, della CIA! No, allora fatteli cazzo tu e fai curare papà. Oh, che palle, Gianluca. Anzi, se vuoi bene a papà tuo, ma ti curi con lui e fumi è Fiodena. No, papà. Dai, cazzo, Gianluca, non mi fare puro, fuma è Fiodena. Gianluca? Rantolite? Sei borroica? Ti dice niente? Prima che papà tuo muore, devi imparare a fumare Fiodena. Chiesti, dai, cazzo, questo lo fanno pure gli gnomini. Ma mica è impifero, Gianluca. Ma che sei, l'incantatore dei serpenti? Così se fuma, guarda papà. Due dita, come se baciassi. Molto leggeramente, così. Ok? Sei pronto? Due dita, come se baciassi. Porti alla bocca. Aspiri, tieni dentro, un po' di più, va verso lì bene, sai come vuoi, arrivarci al bello, quando arrivarci al bello, e butti fuori, è molto semplice. Ma il gnomini lo devo fare. Ma che sei, l'incantatore? Gianluca, guarda bene, concentrati, guarda papà, due dita, come se baciassi. Aspiri, tieni dentro, arrivi al cemello, aspira, più al culo, e butti fuori, cazzo. Ciao. Beh? Ciao, Luca, er-ni-ni-ni, non hai fatto er-ni-ni-ni, che è una cosa più importante, scusami. È certo che te pia l'emvolo, ciao, Luca. Dai, ma svegliati che papà le porta a me